Siamo arrivati al porto che ci porterà l'isola di Jezbond, si trova nel nord di Phuket, per arrivare circa un'ora dalla zona di Kata, adesso aspetteremo la nostra barca e poi faremo il giro con le canole. Ok, dopo un'altra impresa, scendere da quella barca per arrivare su questa lancia traghettatrice, siamo in direzione di Jezbond Island, qui ci ratterremo per circa 30 minuti, vogliono fare alcune foto e fare un ciletto nel mercatino attrezzato apposta per i turisti. Al solito, acqua verde, un po' paludosa, grandi paraglioni. Perché è paludosa, questa baria, eccoci qui. Siamo arrivati finalmente all'isola di Jezbond, questo è il simbolo dell'isola, questo gran paraglione con la base pretta. E qui hanno attrezzato un gran mercatino per prendere un po' di soldi ai turisti. Ed eccoci qui, James Bond Island, Thailandia. E qui, come? E qui? Un po' di soldi. E qui? E qui? Qu'è? Un po' di soldi. 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 Un po' €Korone快. Grazie a tutti.